Assessore Filipponi, al mercato coperto sono state al momento sospese le attività? Sì, questa mattina in AS, insieme alla ASL di Teramo e poi insieme al sottoscritto, in un sopralluogo che è servito in un'attività normale che stanno facendo in tutta Abruzzo, ci sono state delle criticità che sono state evidenziate, soprattutto nella parte superiore, dove attualmente non ci sono attività commerciali, dove è necessaria una sanificazione, parliamo di quei locali che sono anche chiusi, quindi è necessaria proprio questa sanificazione, aprire i garage e fare questo lavoro, più ci sono anche altre piccole criticità a livello di infissi di porte che vanno adeguati all'attività commerciale interna. Ci hanno disposto appunto la sospensione in questa fase e noi abbiamo già attivato tutte le procedure per essere rapidi e sistemare il mercato coperto in modo che possa riaprire il prima possibile, quindi abbiamo concordato anche con le attività all'interno di chiuderlo per qualche giorno in modo che loro possano organizzare anche le materie prime e già domattina in una riunione congiunta con l'ufficio tecnico, l'ufficio patrimonio, i vigili urbani, sapremo più o meno quali sono anche i tempi per la riapertura e quindi potremo anche informare tutte queste attività che se dovessero questi giorni di chiusura per durare nel tempo potremmo anche sistemare in un'area all'aperto in modo che loro possano continuare a lavorare. Quindi per il momento i tempi richiesti non si considerano estremi? Sembra di no, è chiaro che poi bisogna verificare tutte o con le ditte che interverranno sul mercato, non si tratta di lavori di chissà quale entità, sono piccoli interventi, però è chiaro che potrebbero durare qualche giorno e quindi chiaramente ci potrebbe essere la necessità da parte dei commercianti interni di comunque continuare la loro attività magari all'esterno e questo lo verificheremo nei prossimi giorni. Sindaco, a livello progettuale quali sono invece le idee? Stiamo lavorando da tempo e l'idea è chiara, è quella che è scritta all'interno del programma di governo, delle linee programmatiche, una riqualificazione integrale dello spazio del mercato che sia restituito alla città con la sua destinazione ovviamente originaria ma ovviamente riqualificata attraverso una riqualificazione, una modernizzazione un po' sullo schema dei mercati spagnoli ma che si stanno replicando anche in Italia perché possa diventare veramente un centro nevralgico, insomma anche per l'enogastronomia, per i prodotti tipici, prodotti a chilometro zero, insomma questa è l'idea, la prospettiva verso la quale stiamo andando e si sta lavorando.